Sarebbe bastata una terapia antibiotica a salvare la vita dell'isernino Michele Scarano sofferente di ascessi cerebrali ma sei medici del San Camillo di Roma secondo la procura della capitale non hanno adottato la cura idonea perché sicuri che il paziente avesse un tumore. A ritenere fondata questa ricostruzione il GUP di Roma che ha rinviato a giudizio i sei medici con l'accusa di omicidio colposo. La vittima del presunto errore diagnostico è deceduta a 52 anni il 30 aprile del 2017 dopo un'agonia cominciata sei settimane prima il 18 marzo. Solo a pochi giorni dalla disgrazia l'equipe medica secondo il PM Pietro Pollidori si è accorta di aver sbagliato la valutazione degli elementi raccolti nel corso degli esami. Un riconoscimento tardivo inutile a scongiurare il decesso di Scarano. A sedere sul banco degli imputati sarà innanzitutto Clara Leonetti che non avrebbe interpretato le lesioni evidenziate dalla TAC con i suoi cinque colleghi Salvatore D'Antonio, Marcello Ciccarelli, Claudio Perrone, Domenico Nervini e Mario Giuseppe Alma. Non avrebbero disposto la risonanza magnetica richiesta dai medici dell'ospedale di Iservia dove Scarano era stato ricoverato. La tragica odissei del 52enne ha inizio proprio a Isernia dove era residente. Una prima TAC nell'ospedale serve ad approfondire le ragioni dell'improvviso insorgere di problemi di linguaggio. Subito dopo viene disposto il trasferimento dal Veneziale al San Camillo di Roma dato che è stato diagnosticato un tubore al cervello. Tuttavia il medico si premura di non escludere altre malattie e indica la necessità di una risonanza. Arrivato nella capitale il 18 marzo, Scarano fino al 24 aprile viene curato come se avesse metastasi al cervello generate da un cancro ai polmoni. Il tentativo di debellare o quantomeno ridurre la presunta neoplasia causa effetti mortali secondo l'accusa. In questo periodo infatti stando al consulente della procura Luigi Cipolloni gli ascessi degenerano avvelenando l'intero organismo e rendendo disperate le condizioni del paziente. Soltanto all'ultimo i medici si accorgono che le macchie evidenziate dalla TAC sono ascessi e provano a fornire una spiegazione ai parenti di Scarano. Ai familiari uno dei sei medici si giustifica così. Non era mai stato chiarito se quelle immagini fossero ascessi o tumore perché alla TAC sono uguali. Secondo l'accusa sarebbe bastato un approfondimento più celere per salvare la vita a Scarano con banali antibiotici.